La vicenda familiare e sportiva del Biccaris e Volante raccontate con delicatezza e passione dal regista romano Antonio Silvestre dopo aver girato a Indianapolis, New York, Los Angeles e Biccaris. La troupe si sposta a Foggia presso la biblioteca provinciale dove è stata depositata, ma rivive con le tante iniziative promosse ogni anno, la memoria bibliografica della Capitanata e del Mezzogiorno. A 12 anni della pubblicazione del libro Raph De Palma, storia dell'uomo più veloce del mondo che veniva da Foggia di Maurizio De Tullio, è pubblicato da Edizione Agora di Foggia. La vita e le straordinarie gesta sportive umane di quel campione riemergeranno a breve in un docufilm nato a Biccaris nel 1882 ed emigrato con la famiglia negli Stati Uniti verso la fine del 1800. Ralf De Palma è un pilota automobilistico dai numeri stratosferici e le cui storiche vittorie e imprese vanno ricordate perché conseguite quando era ancora cittadino italiano. E' infatti ancora l'unico pilota italiano ad aver vinto la 500 miglia di Indianapolis, è ancora l'unico pilota italiano ad aver vinto due volte il titolo di campione del mondo di automobilismo ed è ancora l'unico italiano ad aver battuto il record del mondo di velocità. Ed è l'unico al mondo ad aver vinto in carriera ben 2500 gare sui 2008 alle quali partecipò tra ciclismo, motociclismo e soprattutto automobilismo. Ora un docufilm cerca di rimediare a vuoto di memoria storica degli italiani, degli storici dello sport e dei giornalisti. Grazie. 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 Grazie.